Dopo il lieve calo dei giorni scorsi torna ad assestarsi a quota 500 contagi ai quali si sommano altre 6 vittime. Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza con più 242, seguita da quelle di Reggio Calabria più 158, di Catanzaro più 50, di Crotone 42 e di Bibo Valencia più 8 casi. E' effettuati 627.064 tamponi, eseguiti su 679.431 persone. I casi di Covid finché accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo e suddivisi per ogni singola provincia sono. Nel Cosentino i positivi riscontrati sono stati in tutto 17.962, quindi con un più 242. Casi attivi 7.333. Nel Reggino i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 18.845. A Catanzaro i contagi accertati sono stati finora 8.145. Nel Crotonese i casi riscontrati sono 4.979. Nella provincia di Bibo infine i casi Covid salgono a 4.682. Nel Colombo. Nel Colombo. Nel Colombo. Nel Colombo.